Buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo webinar sull'armonizzazione di dati Inspire. Io sono Stefania Morrone, lavoro per Epsilon Italia. Giusto una breve introduzione a beneficio di chi non ha potuto seguire il primo webinar. Epsilon Italia è un'azienda privata che opera da 20 anni nel settore geomatico e da 10 anni attivamente coinvolta nell'implementazione della direttiva Inspire. E proprio dall'esperienza maturata con la partecipazione a diversi progetti europei, grazie all'assistenza tecnica fornita all'Agenzia Ambientale Europea e anche ad alcuni stati membri, è nata in noi l'idea di creare un Inspire Help Desk per fornire assistenza ai vari soggetti pubblici e privati anche interessati dall'attuazione di Inspire. In questo contesto abbiamo pianificato una serie di webinar gratuiti con lo scopo di sensibilizzare verso le tematiche e i requisiti relativi alle varie fasi attuative della direttiva Inspire. Siamo pronti a partire, quale sarà il contenuto del nostro webinar? Vedremo gli adempimenti della direttiva Inspire relativamente ai servizi di rete, il processo di armonizzazione Inspire, vedremo proprio l'ultimo step, lo step di pubblicazione del dato territoriale e poi ci inoltreremo nell'esempio pratico che illustrerà la pubblicazione di un dato territoriale conforme a Inspire, precisamente il dato territoriale che avevamo armonizzato nel precedente webinar tramite servizi di rete VFS e VMS e vedremo anche come è possibile utilizzare il dato pubblicato in ambiente GIS desktop e concluderemo accennando a come è possibile poi ricevere supporto dall'Espire Helpdesk. Per garantire che le infrastrutture dei dati territoriali degli stati membri siano compatibili e utilizzabili in un contesto comunitario trasfrontaliero, la direttiva Inspire prevede che siano adottate delle norme comuni per l'interoperabilità per i vari componenti di una infrastruttura di dati territoriali, quindi per i metadati, per i dati e i servizi. Oggi ci occuperemo dei servizi di rete. La direttiva impone che le informazioni geografiche, le informazioni territoriali debbano essere esposte e quindi condivise secondo standard internazionali e questo per consentire a tutti i soggetti interessati pubblici e privati l'accesso ai dati cartografici con strumenti e protocolli standard. In particolare i servizi di rete Inspire si basano sugli standard internazionali V3C, ISO e OGC, quindi gli standard dell'Open Geospatial Consortium. Le norme di attuazione Inspire per i servizi di rete, le implementing rules for network services e le relative linee guida tecniche forniscono le specifiche tecniche per i servizi di rete conformi ai requisiti della direttiva e questi documenti sono scaricabili dal sito Inspire. La direttiva ha identificato anche una roadmap con scadenze intermedie per la fornitura di metadati, dati e servizi conformi ai requisiti. La prossima scadenza è quella del 23 novembre 2017, lo abbiamo visto anche nello scorso webinar, per questa data la direttiva impone non solo che i dati territoriali siano resi conformi ai modelli Inspire, ma anche che tali dati siano resi disponibili attraverso servizi di rete conformi ai requisiti Inspire. Come ottenere un dato conforme a Inspire? Nello scorso webinar ci eravamo occupati della trasformazione dei dati territoriali in conformità ai modelli dati Inspire attraverso l'uso di un software di trasformazione. Chi non ha avuto modo di partecipare o volesse semplicemente rivedere il webinar può andare sul canale YouTube di Epsilon Italia di cui vedete l'indirizzo. Vedremo come è possibile esporre il dato trasformato, abbiamo visto come nel precedente webinar, attraverso servizi di visualizzazione e download e in particolare tramite servizi web WMS e WFS. Il processo di armonizzazione di un dato territoriale Inspire può essere schematizzato in una serie di passaggi o step. Riprendiamo adesso la slide che abbiamo utilizzato già nel precedente webinar e che è lusso del processo di armonizzazione Inspire. La scorsa volta ci eravamo occupati dei primi step relativi alla produzione di un file GML conforme. Oggi ci occuperemo dell'ultima fase relativa alla pubblicazione del dato e vedremo come è possibile creare dei servizi di rete WMS e WFS senza eccessive difficoltà grazie all'uso di due software open source e il legge server. Ovviamente esistono diverse configurazioni di software che possono essere utilizzati per la pubblicazione dei dati. Noi oggi vedremo una soluzione open source, in particolare il legge server perché sfrutteremo le sinergie tra questi due software e vedremo come fare. Quindi riprenderemo il progetto AIL usato come esempio nello scorso webinar e pubblicheremo il dato trasformato e finalmente potremo dire di aver ottenuto un dato armonizzato conforme alla direttiva Inspire. Giusto qualche notizia sui software che utilizzeremo. AIL è un software di trasformazione open source e consente di trasformare un dato territoriale in conformità ai modelli dati target, nel nostro caso sono modelli dati Inspire. Mentre GeoServer è un web server open source ed è utilizzato quindi per la gestione di dati geospaziali, quindi per condividere, elaborare ma anche modificare dati territoriali. I servizi web forniti da GeoServer sono certificati OGC, sono quindi conformi agli standard internazionali dell'open geospazial consortium. La pubblicazione dei dati Inspire con GeoServer è resa più facile dall'utilizzo congiunto del software AIL che consente di creare direttamente il file di configurazione per la pubblicazione dei servizi VFS e VMS con GeoServer. In particolare sfrutteremo la funzione di AIL di Export Alignment nel formato App Schema Configuration perché questa funzione consente di configurare il il Data Store Application Schema di GeoServer. Perché il tutto funzioni? Perché il tutto funzioni bisogna ovviamente configurare un'istanza di GeoServer e per Inspire bisognerà installare delle estensioni e in particolare le estensioni App Schema e Inspire. Tali estensioni di GeoServer sono disponibili nella sezione Download del sito ufficiale di GeoServer. Vanno scaricate e va poi eseguito il file EXE che si trova nello zip che verrà scaricato. L'estensione App Schema in particolare consente di configurare i Data Store di tipo Application Schema che consentono il mapping dei dati verso un modello dati target, quindi un'application schema target e nel nostro caso i modelli dati Inspire e consente anche la gestione di complex feature type, quindi strutture dati più complesse che sono tipiche dei modelli Inspire. La seconda estensione da installare che è l'estensione Inspire consente poi a GeoServer di essere conforme alle specifiche di view service e download service di Inspire in quanto aggiunge le informazioni relative alle extended capabilities ai metadati dei servizi. La seconda cosa che bisogna fare per che tutto funzioni è quella di rendere disponibile il dato sorgente in un database spaziale, ad esempio PostGIS. Abbiamo scelto PostGIS perché è nativamente supportato da GeoServer, mentre per usare altri DB quali Oracle, MySQL o SQL Server bisogna installare le relative estensioni, sempre da scaricare nella sezione download del sito GeoServer. Questa che vedete nella slide è la console di amministrazione di GeoServer e sulla sinistra c'è il menu con tutte le funzionalità disponibili per la configurazione dei servizi. In questa slide vediamo invece il dato sorgente reso disponibile in una tabella di database. Nello scorso webinar ad esempio avevamo utilizzato come sorgente, quindi come dato di partenza, uno shape file. Per poter utilizzare quello stesso progetto AIL sfruttando poi la funzionalità app schema per GeoServer bisogna invece importare lo shape, quindi farlo diventare una tabella di database, così come vedete nella slide. Direi che siamo pronti per partire con la live demo e quindi do la parola al mio collega Fabio Vinci. Buongiorno a tutti, sono Fabio Vinci, rinnovo il mio benvenuto al webinar. Vedremo un po' i vari passaggi anche se non saranno, naturalmente non possono essere esaustivi, però vedremo i passaggi live di quanto visto fino adesso. Riprendiamo, come ha detto la mia collega, il software AIL che abbiamo visto nello scorso webinar in cui appunto avevamo creato questo progetto di trasformazione tra il nostro dato sorgente, tra il nostro dato sorgente che nella scorsa volta abbiamo utilizzato direttamente come dato sorgente lo shape file, in questo caso è la tabella del database che abbiamo visto prima, il nostro dato target di riferimento è lo schema XSD di Spire relativo ai protected sites e una volta caricato il dato sorgente e il dato target avevamo impostato tutte le regole di trasformazione. e sfrutteremo in questo caso, sfrutteremo oggi il plugin disponibile nativamente in AIL che supporta appunto l'esportazione di questa trasformazione creata in AIL nel file, questo allineamento può essere esportato in formato app schema di GeoServer. Andando brevemente ad esempio sull'help di AIL c'è appunto una sezione dell'help dedicata a questo plugin che è appunto il GeoServer AppSchema Plugin di AIL in cui viene descritto un po' il plugin e ci sono ad esempio, volevo citare appunto delle restrizioni, cioè non tutte le regole di trasformazione che sono molteplici che possono essere settate in AIL per trasformare il dato sono diciamo supportate da questo plugin, cioè possono essere esportate poi nell'app schema nel file di configurazione app schema di GeoServer. Però naturalmente le principali operazioni, quelle naturalmente più utilizzate, sono supportate. Per verificare ciò, quindi qua avete nella guida, nell'help di AIL una sezione dedicata a questo plugin con tutte le informazioni. Per verificare che tutte le funzioni di trasformazioni che io ho settato in AIL siano supportate, posso andare dal menu Transformation, Compatibility Mode e abilitare la verifica e il check della compatibilità appunto con GeoServer. Una volta abilitato questo check in AIL, se nel mio allineamento, quindi nella mia trasformazione utilizzo una funzione non supportata al momento da questo plugin di esportazione, avrò nella appunto, nella relativa icona della funzione un warning con un triangolino che mi dice che quella funzione al momento non è supportata. Come ripeto diciamo quelle più utilizzate, quindi Retype, Formatted String, quelle che noi abbiamo utilizzato, sono naturalmente supportate dal plugin di AIL al momento. La scorsa volta cosa abbiamo fatto? Era in pratica lo stesso progetto, a parte che il source dataset era uno shape, avevamo utilizzato la funzione di export e avevamo trasformato, quindi avevamo esportato il dato trasformato in formato GML con forma di Spire. In questo caso, quindi nel caso della pubblicazione del servizio che voglio fare con GeoServer, vado ad esportare soltanto l'allineamento, cioè vado ad esportare tutte queste regole di trasformazione che io ho settato in AIL, le vado a trasformare appunto nel formato schema compatibile utilizzato da GeoServer. Quindi quello che io devo andare ad esportare in questo caso non è il dato fisico in formato GML, ma è soltanto l'allineamento. Quindi se vado dal menu export e scelgo allineamento, ho tra i vari formati di export il formato app schema configuration, che è proprio il formato utilizzato da GeoServer. Vado su next e scelgo appunto il nome e la posizione dove salvare questo file. Se vado su Browse, naturalmente vado nell'esplorare risorse di Windows e scelgo la posizione del file. Tra i vari formati, importante da notare, qua ho la possibilità di esportare il solo allineamento XML o la possibilità di esportare l'app schema, tutto l'archivio di configurazione che è completo, quindi conviene esportare in questo caso appunto il file zip e quindi tutto l'archivio e tutti i cartelle e file che poi vedremo necessari appunto ad andare a settare nella maniera corretta i servizi in GeoServer. Quindi scegliendo il file zip, scelgo il nome e la posizione del file e vado su salva. Al prossimo step mi viene chiesto se voglio includere il target schema nell'archivio. È preferibile non cercare questa opzione e lasciare che l'app schema, cioè il target schema venga letto direttamente dal repository schemas di Spire, quindi venga letto online e l'XSD venga preso direttamente dal repository online di Spire. Al prossimo step mi viene richiesto i parametri di richiesti, perché questi parametri andranno poi memorizzati nell'app schema, i parametri di connessione al database dove risiede appunto la tabella che io qua ho usato come source dataset. Quindi devo mettere l'IP, il nome del database, lo schema all'interno del database e username e password di connessione al DB. Appunto questi dati verranno memorizzati nel file app schema. Una volta compilati questi dati con appunto dove specifico la connessione al DB, quindi in questo caso postgis, clicco su finish e mi verrà appunto esportato quel file zip che abbiamo visto. Quindi avrò in export il file zip. Se esplodo questo file zip, sono contenuto al suo interno una serie di cartelle con alcune generiche, poi naturalmente quella specifica ps, sta per protect the sites, relativa appunto al dato trasformato, in questo caso protect the sites. Cosa mi servono queste cartelle? Riprendiamo velocemente la pagina di amministrazione di GeoServer. GeoServer ha una cartella che è la data directory, questa è la location di default, ma la posso cambiare, ha questa cartella datadir dove al suo interno sono contenute tutti i file di configurazione di GeoServer. Tra all'interno di questa datadir, quindi che contengono tutti i file di configurazione, c'è una cartella workspaces che apro e che contiene appunto le cartelle, tutti i file, i file relativi appunto ai workspaces di GeoServer. Quindi quello che ha esportato ALE, quindi nel pacchetto zip, sono tutti i workspaces, queste cartelle corrispondono quindi ai workspaces di GeoServer che mi servono. Naturalmente ci sono, abbiamo detto, quello specifico relativo al tema che ho trasformato, in questo caso ps, e ce ne sono altri generici come base.gml che contengono appunto la definizione del solo workspace. Naturalmente la prima volta che creo un servizio Inspire mi serviranno tutte, quindi in questo caso io ho preso queste cartelline e le ho copiate nella directory datadir workspaces di GeoServer. Se poi creerò un nuovo dato, un nuovo dato Inspire relativo a un altro tema, non c'è bisogno che ricopi le cartelle condivise, posso copiare solo quella relativa al tema o comunque anche se poi le sovrascrivo non succede niente perché contengono solo XML, file di configurazione generici. Una volta fatto questo, se torno all'interno di GeoServer e vado a ricaricare il servizio da questa pagina posso fare reload oppure stop e riavviare il servizio, mi ritroverò settato tutto quello che mi serve. Quindi a partire dal workspace, vedete quelli generici e quello specifico ps, avrò settato lo store, quindi lo store di tipo application schema data access. Ricordiamo che in questo store io ho quindi l'allineamento, la trasformazione fatta in mail è stata trasformata nel file app schema di GeoServer, quindi andrà GeoServer a leggere i dati sorgente nel formato che rimangono nel formato originario all'interno del database Postgis e GeoServer nella pubblicazione dei servizi WFS e WMS applicherà on the fly, diciamo al volo, sul dato sorgente contenuto nel database, applicherà le regole di trasformazione definita all'interno di Hale e poi esportate nell'apposito file app schema di configurazione di GeoServer. Quindi ho lo store settato, se vado sul layer ho il layer di tipo protected sites, anche qui creato in automatico, se vado sul layer protected sites ho accedo poi a una serie di configurazioni che in genere non devo intervenire. L'unica cosa potrebbe essere che ad esempio potrei avere problemi di visualizzazione del dato, soprattutto del WMS, se non è settato le corrette coordinate del bounding box. Se queste caselline sono vuote e non sono compilate, posso andare a forzare la compilazione in automatico, andrà a leggere il dato GeoServer e compilerà in automatico le coordinate relative al bounding box e possono cliccare su save. Quindi GeoServer, l'interfaccia mi mette a disposizione poi una preview del dato, in questo caso vedo il mio layer, nel menu layer preview, vedo il mio layer protected sites e posso avere un'anteprima del dato in formato WMS, se vedete i protected sites di Malta, una preview del dato e ho una serie di query predefinite per interrogare i servizi, vedete WMS nei vari formati e WFS. Questa query predefinita si aggancia al servizio in formato 1.1 e qua vedete la stessa query che interroga appunto, questo è il namespace del mio servizio, sto interrogando quindi questo servizio WFS in versione 2.0, che è quella richiesta da Aspire, con un'operazione di get feature. Quindi qua ho la restituzione del mio dataset tramite il mio WFS che espone il mio dataset armonizzato e conforme ad Aspire. Infatti tra gli schemi di riferimento di questo dataset vedete, oltre gli schemi generici del WFS e del GML, vedete l'indicazione dello schema Inspire, protected sites, XSD, letto direttamente dal repository ufficiale Inspire. E quindi qua posso navigare, ho l'anteprima, chiudo la geometria che è quella più lunga, ho l'anteprima del mio dataset, vedete la struttura del dataset conforme al data model Inspire con la sua tipica struttura d'albero, quindi con attributi e diciamo sotto attributi, quindi questa è la struttura Aspire. Quindi ho pubblicato in questo caso quindi il mio layer, il mio dato armonizzato in formato WMS e WFS. Vediamo giusto adesso, riprendo l'utilizzo di questi dati all'interno di un software GIS desktop, in questo caso è il software open source QGIS. Abbiamo detto che il WFS è in formato 2.0, che è quello richiesto da Aspire. Al momento, almeno in questa versione attuale di QGIS, non gestisce nativamente il caricamento di WFS 2.0, però vedete qui potete poi andare da plugin e installare questo plugin che si chiama WFS 2.0 client, nel quale inserisco il namespace del mio servizio, l'endpoint del mio servizio, interrogo il servizio dalle get capability e verifico l'elenco delle feature type dei layer pubblicati da questo WFS. In questo caso ho il mio layer PS, due punti protect the sites, in questo caso scelgo quante feature eventualmente e carico le feature. Io le avevo caricate, vedete caricato già in QGIS le mie feature, quindi ho caricato il dataset leggendo lo stesso tramite caricando appunto il dataset dal WFS. Se accedo alle info di questo layer su uno dei poligoni, naturalmente questa tabella dei risultati di QGIS mi restituisce gli attributi, diciamo tra virgolette appiattiti, nel senso mi restituisce tutti gli attributi. Avete visto ad esempio prima l'ispire ID, che ad esempio è di tipo identifier ed è fatto da un local id e da un namespace, quindi questa struttura d'albero degli attributi, della struttura dati inspire, e in questo caso vedete ho ad esempio il local id e il namespace che mi vengono comunque restituiti in questo caso, in questa visualizzazione di QGIS in formato piatto, però ho tutti gli attributi presenti nel dato inspire. Giusto per farvi vedere la struttura, il mantenimento naturalmente della struttura d'albero, c'è un altro plugin che si chiama, vedete, Complex GML Info, che ha la selezione, sfruttando la funzione selezione di QGIS, ha la selezione di un oggetto sul mio layer WFS e attivando questo plugin, vedete in questo caso mi restituisce l'esatta struttura degli attributi del dato, conforme inspire, quindi con la classica struttura annidata ad albero. Allo stesso modo ho in questo caso utilizzato invece, perché QGIS legge i WMS 1.3, ho utilizzato la funzione nativa di QGIS di caricamento di un layer WMS, vedete, ho creato questa connessione utilizzando sempre l'endpoint del servizio, quindi ho settato questa connessione, mi vado a connettere al WMS in questo caso e su questo WMS appunto vedo il layer disponibile tramite questo endpoint WMS. Vado sempre a fare aggiungi, in questo caso l'avevo già aggiunto, e aggiungo il layer WMS alla mappa. Spengo il WFS, riaccendo il WMS, vedete quindi lo stesso dato armonizzato, inspire, conforme ai requisiti della direzione inspire, pubblicato tramite il servizio WMS. Anche in questo caso è abilitato anche sul WMS l'info del layer, quindi se vado con la funzione info di QGIS sul layer, in questo caso questo formato HTML, vedete questa rappresentazione, ho anche qui sul layer WMS la rappresentazione, la visualizzazione, posso visualizzare quindi gli attributi del, in questo caso del poligono su cui ho cliccato, in questa rappresentazione che mi dà sempre, diciamo, mi identifica la struttura d'albero, quindi quello che abbiamo visto prima, l'inspire ID, fatto da un local ID, che è questo, e da un namespace, quindi ho tutti gli attributi, in questo caso visualizzati nella classica struttura prevista da Aspire. Quindi questo è poi l'utilizzo dei servizi che, conformi Aspire, che ho appena pubblicato. Abbiamo finito la Live Demo, naturalmente non poteva essere esaustiva di tutti i passaggi naturalmente richiesti, ma era solo per far vedere una possibilità tra le varie disponibili, soprattutto di una soluzione utilizzando software open source, quindi alla fine software che non richiede il pagamento di licenze, quindi una delle, tra le varie, tra i diversi software open source o possibilità, una delle opzioni che ho di utilizzare quindi in congiuntamente due software, uno quindi AIL per la trasformazione e GeoServer per la pubblicazione del dato armonizzato e quindi conforme Aspire. Vi ricordiamo il nostro sito Aspire Helpdesk, dove trovate anche un blog su cui pubblichiamo news o aggiornamenti su tutto quello che è poi la direttiva Aspire, anche il collegamento ai nostri servizi, il collegamento al nostro canale YouTube Aspire in Peels, dove troverete anche questo webinar e lo scorso webinar per chi non l'ha seguito e la possibilità di inviare tramite il nostro sito Aspire Helpdesk, vi potete registrare e eventuali richieste di supporto, potete registrarvi e aprire un ticket con una richiesta di supporto. Abbiamo inserito alla prima registrazione 5 ore free di supporto ai nuovi iscritti, e quindi sia tramite il sito o il nostro sito potete contattarci per qualsiasi esigenza appunto relativa all'applicazione della direttiva. Grazie a tutti e al prossimo webinar.